Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Nella settimana precedente c'è stata una importante comunicazione da parte dell'Inns regionale Abruzzo su tutta una serie di dati del 2023 riguardanti le nostre prestazioni, in particolare quelle previdenziali, ma non soltanto legate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in una sorta di rapporto annuale. Quindi da questo osservatorio privilegiato si possono capire e poi anche commentare alcune dinamiche importanti della vita sociale ed economica della nostra regione. Per approfondire il rapporto Inps-Abruzzo 2023 abbiamo gradito ospite in studio il direttore regionale dell'Inps, Luciano Busacca. Buonasera, benvenuto nei nostri studi. Sono emerse tante, tantissime notizie di interesse su cui anche noi giornalisti stiamo lavorando, lavoreremo, approfondiremo, però il quadro che emerge già di per sé in via sintetica è di grande rilievo e ci dà due o tre, tra virgolette, titoli giornalistici. Primo, sicuramente si riferisce, parlando anche dei flussi finanziari dell'Inps in uscita e in entrata che riguardano la nostra regione, al mercato del lavoro. Qual è stato il termometro dell'occupazione nel 2023 dal vostro punto di vista? Innanzitutto grazie per l'invito, il gentile invito. Entro subito nel merito della sua domanda. Diciamo che è opportuno evidenziare subito un dato rilevante, e cioè che l'Inps ha un flusso in uscita per le prestazioni, per tutte le prestazioni da quelle pensionistiche, assistenziali, agli ammortizzatori sociali, alle prestazioni sulla inclusione sociale, il contrasto alla povertà, le prestazioni relative all'appoggio, sostegno della genitorialità, della natalità, sono un flusso finanziario, abbiamo calcolato nel 2023, di 7 miliardi, 6 miliardi. Mentre dal punto di vista delle riscossioni, cioè dal punto di vista dei contributi ricevuti dall'Istituto, contributi per versare dei datori di lavoro, dai lavoratori, dai lavoratori autonomi, contributi anche versamenti volontari, noi riscuotiamo circa 2 miliardi e 9 miliardi. L'Istituto in Abruzzo è un istituto che lascia sul territorio 4 miliardi e 600 milioni, quindi 2 miliardi e 9 di riscossione, 7 e 6 di uscita. Relativamente al mercato del lavoro, possiamo dire che nel 2023 troviamo sicuramente una situazione positiva, perché assistiamo a un incremento del tasso di occupazione di quasi 3 punti percentuali. Il tasso di occupazione in Abruzzo è passato dal 58,4% al 61,3% ed è quasi in linea con il tasso di occupazione medio nazionale che si è verificato nel 2023, quindi 3 punti percentuali. All'interno di questo dato positivo viene uno particolarmente significativo ed è quello del tasso di occupazione delle donne, perché a seconda delle fasce di età ci sono incrementi occupazionali delle donne che arrivano fino anche a 5 punti e questo è un elemento positivo, sappiamo bene che il tasso di occupazione dipende molto dalla presenza nel lavoro delle donne. Un ulteriore elemento positivo di questa situazione occupazionale positiva è il fatto che il tasso di disoccupazione nel 2023 è passato dal 9,4% all'8,1%. Questi sono gli elementi positivi, però vi sono anche delle criticità. Queste criticità sono in modo particolare, si assiste ad un divario di genere che sia occupazionale che retributivo. Il divario occupazionale è, nonostante l'incremento che dicevo prima del tasso di occupazione delle donne, per quanto riguarda gli uomini il tasso occupazionale addirittura supera di 23 punti, in certe fasce di età, quella da 50 a 64 anni, 23 punti quello delle donne. E poi c'è un divario retributivo, la retribuzione media giornaliera della donna è di 68 Euro, mentre quella dell'uomo è di 91 Euro, 91 è qualcosa. Quindi questo è già un gap. Un dato poi ancora non certamente positivo è il fatto che abbiamo, guardando le assunzioni, si è potuto registrare che le assunzioni a tempo determinato hanno subito un aumento percentuale, si tratta di un 3,6% di aumento e c'è anche una lieve flessione dei contratti a tempo indeterminato, una flessione del 2,4. Terzo dato che bisogna fortemente attenzionare è la presenza dei cosiddetti NIT, cioè dei giovani che non lavorano, non si formano e non studiano. Sono giovani tra i 15 e i 29 anni e il 15% della popolazione residente in Abruzzo, dei giovani residenti in Abruzzo che hanno questa fascia d'età, circa 27 mila persone, sono appunto NIT, persone che non lavorano, non studiano, non si formano. Direttore, invece nell'analisi del panorama demografico della nostra regione, anche dei flussi migratori, come influiscono questi dal vostro punto di vista su contribuzione e prestazioni? Grazie, grazie della domanda, perché anche questo è stato importante per noi quest'anno, cercare di fare un focus sulla situazione del cosiddetto saldo naturale e saldo migratorio. Spieghiamo che cos'è. Il saldo naturale è la differenza tra nascite e decessi, ed è una situazione che in Abruzzo vede meno 8 mila e 70 persone, circa, poco più, ricordo di poco più di 8 mila persone. Mentre dal punto di vista del saldo migratorio, cioè la differenza tra gli immigrati che arrivano in Abruzzo e gli immigrati, cioè le persone abruzzesi che vanno via dall'Abruzzo, sotto questo profilo c'è un delta positivo solo di 1.304 persone. Quindi, se pensiamo al delta negativo del saldo cosiddetto naturale, cioè differenza tra decessi e nascite, di oltre 8 mila e il saldo positivo del saldo migratorio, differenza tra immigrati ed emigrati, vediamo che non c'è una situazione positiva, è una situazione negativa. Il saldo naturale incide in Abruzzo dello 0,7% sulla popolazione di residenza, mentre la media nazionale è dello 0,5%, quindi qui vediamo qualcosa che va attenzionato, perché abbiamo un forte tasso di incidenza, cioè lo 0,7 con lo 0,5 nazionale abbiamo una differenza del 40%, quindi è una situazione che va posta in essere, occorre pensare a organizzare bene i flussi immigrati, questo è un problema comunque nazionale, il calo demografico è un problema nazionale, come incide, lei mi diceva, come incide sulla… Soprattutto sulle pensioni future. Sul sistema previdenziale, ma guardi, dobbiamo intenderci e far capire una volta per tutti che il sistema previdenziale nostro italiano è un sistema cosiddetto a ripartizione, ora questo termine allontana, questo termine tecnico allontana le persone dal capire e invece dobbiamo dire che ripartizione significa che noi paghiamo le pensioni non accumulando i contributi e investendo i contributi che si raccolgono, ma paghiamo le pensioni proprio con i contributi che anno per anno si raccolgono, questo significa sistema a ripartizione, cioè abbiamo un flusso d'entrata che paga i pensioni dei più anziani, allora è chiaro che nel momento in cui c'è un calo demografico, si assiste ad una forza lavoro e potenziale che potrebbe non esserci più e quindi questo potrebbe alla lunga minacciare l'equilibrio pensionistico, non siamo, dico subito, non siamo ancora a quei livelli e tuttavia la tendenza demografica, il calo demografico, il cosiddetto inverno demografico è certamente… Ma ci sono dei settori in cui c'è un incremento dei flussi contributivi su questa regione? Certo ci sono, io devo dire che la regione proprio nel 2023 c'è un flusso dei contributi generali, diciamo così complessivo del 2,59%, ora l'augumento del flusso complessivo dei contributi significa maggiore contribuzione, quindi maggiori redditi degli autonomi, anche delle retribuzioni, un bacino, una base imponibile retributiva più ampia, quindi è un segno in dubbio di vitalità. E probabilmente questa crescita è legata anche a fenomeni di emersione del lavoro? Sì, anche questo, su questo devo dire subito che dalla tabella dei DURC noi troviamo che in tre anni abbiamo visto un tasso di irregolarità dei DURC, DURC è il documento di regolarità contributiva, un tasso di irregolarità che via via da tre anni scende, quindi in qualche modo abbiamo una compliance dell'operatorio economico verso criteri ordinari e di irregolarizzazione e tuttavia in un'altra tabella vediamo che per quanto riguarda l'attività di vigilanza ispettiva fatta dall'Istituto si è potuto notare che su 377 aziende ispezionate, 301 hanno, ci sono state delle irregolarità, quindi un tasso quasi dell'80%, ora cosa significa? sono due tabelle un po' in contraddizione, ma probabilmente significa da un lato che la nostra attività di intelligenza, di controllo, di visionare il rischio dell'azienda prima ancora di andare all'ispezione è abbastanza buona, quindi quando andiamo tira e va dritto, dall'altra parte evidentemente si vede comunque che c'è anche un tasso di irregolarità. Direttore, qual è l'andamento delle prestazioni previdenziali e di quelle assistenziali in abbrutto? Guardi, l'andamento delle prestazioni previdenziali, sulle previdenziali, cioè quelle pensionistiche per intenderci, c'è un tasso di incremento del 7,6, quindi consistente, le pensioni sono aumentate, sono aumentate anche le prestazioni assistenziali del 4,4, e questo riguarda lo stock, cioè le pensioni o le prestazioni assistenziali vigenti, quando riguarda le pensioni liquidate che le prestazioni assistenziali liquidate, quest'anno si assiste a qualcosa che in qualche modo è un allarme, un piccolo allarme, e cioè si assiste al superamento delle prestazioni assistenziali rispetto a quelle pensionistiche, un superamento, nell'anno 2023 abbiamo liquidato più prestazioni assistenziali che pensionistiche, quindi più assegni sociali, più pensioni di invalidità civile e questo è qualcosa che va attenzionato e è sempre ovviamente un fattore che va a dividenziare sicuramente dei maggiori stati di bisogno, ma non è escluso che ci possa essere qualche fenomeno elusivo. Nello specifico dei singoli ammortizzatori sociali qual è la situazione? Noi veniamo fuori anche dalla fuoriuscita dal reddito di cittadinanza. Certo, gli ammortizzatori sociali abbiamo sicuramente la NASPI, la cosiddetta indemnità di disoccupazione, c'è un aumento del 4,4%, ora anche questo è un dato che va capito come è possibile di fronte a una situazione occupazionale positiva che aumenta la NASPI, probabilmente dato dal fatto che l'occupazione è aumentata, ma c'è questa prevalenza di cui dicevo prima sulle assunzioni a tempo determinato, la NASPI viene erogata alla scadezza del contratto a tempo determinato. C'è una riduzione forte nel 2023 della cassa integrazione, anche se a luglio c'è qualcosa, a luglio di quest'anno abbiamo visto una impennata, tuttavia nel 2023 registriamo un abbattimento del 40% della gassa integrazione. Per quanto riguarda invece il venir meno del reddito di cittadinanza, sapete che scelte governative hanno fatto una distinzione tra persone occupabili e persone non occupabili. Le persone occupabili, cioè con età fino a 59 anni, dove all'interno dei nuclei familiari non esiste un minore oppure non c'è una persona con età superiore a 60 anni oppure non ci sia un disabile o altra ancora non ci sia una persona economicamente svantaggiata e sostenuta dal servizio sociosanitario. In questi casi, in tutti gli altri casi, escludendo queste nuclei familiari, c'è il cosiddetto supporto formazione lavoro, che è una indennità di 350 Euro mensile legate a dei percorsi di formazione. Il legislatore ha detto che va bene su questa indennità, che comunque è più bassa rispetto al reddito di cittadinanza, facciamo un percorso di formazione alla fine del quale si spera di trovare il lavoro. E con questa è la scelta che ha fatto il legislatore. Noi su questo, questo è partito da settembre 2023, quindi ancora i dati sono pochissimi. E l'altra misura, quella dell'assegno di inclusione, invece è partita dal 1 gennaio 2024. E quindi sarà oggetto del prossimo reseconto sociale del 2024. Noi la ringraziamo direttore perché lei ci dà una serie di spunti, ovviamente per chi fa il nostro mestiere molto interessanti, ma soprattutto per i portatori di interesse nella nostra regione, perché l'Inps non ha soltanto un ruolo amministrativo, come si vede, ma anche di grande termometro della nostra società. Quindi il reseconto sociale è un atto molto importante che annualmente viene messo a disposizione di tutti gli abruzzesi. Noi la ringraziamo, l'aspettiamo, ovviamente siamo a disposizione dell'Inps per ogni genere di comunicazione e anche di servizio che possa riguardare i nostri telespettatori e diamo appuntamento alle prossime occasioni con il fatto. Grazie Luciano Busacca, direttore regionale dell'Inps. Buonasera. Buonasera.